Noi siamo persone operose di montagna, quindi abituati a farci le cose da soli. Dopo un colpo così evidentemente avevamo bisogno di aiuto a rialzarci e grazie a questo aiuto però riprenderemo anche a camminare da soli. La giornata del volontariato della protezione civile è stata dedicata al ponte della solidarietà lanciato verso il comune di Visso in provincia di Macerata, zona colpita dal sisma. Questo vostro abbraccio lo avevo già provato nel mese di novembre quando ero venuto la prima volta a descrivere la situazione del mio comune e a spiegare cosa speravo venisse da questa iniziativa. Oggi sinceramente ho trovato delle conferme e anche delle sorprese perché la partecipazione della regione toscana e l'adesione entusiasta di molti più enti di quelli che avrei immaginato a questa iniziativa mi porta a sperare ancora di più che effettivamente possa diventare quella opportunità importante per la mia zona che all'inizio forse nemmeno speravo. Si tratta del quindicesimo ponte della solidarietà della consulta della protezione civile che adesso sta portando avanti il progetto denominato Visso Vive a sostegno delle popolazioni rimaste nelle zone colpite dal sisma. È un progetto complesso che prevede un aiuto immediato a quei pochi cittadini rimasti sul posto. Si prevede di dare un altro aiuto a quelli che rientreranno nei prossimi mesi, rientreranno nelle proprie case, rientreranno nelle proprie attività. E poi cercheremo con la sottoscrizione che abbiamo aperto, cercheremo di riattivare le attività economiche che sono quelle che faranno tornare la gente nel posto con una raccolta fondi che abbiamo aperto il giorno 25 di agosto e speriamo di portare in fondo il nostro progetto.